Travolta mentre attraversa la strada morta una 71enne Fondazione Carifano tombare e risponde agli attacchi della politica Fano si candida a sede di polo logistico provinciale Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, subito la cronaca, stava attraversando la strada nel centro di Montecchio Camminando sulle strisce pedonali, un'auto non l'ha vista o non ha fatto in tempo a frenare E l'ha travolta uccidendole, è accaduto questa mattina poco dopo le 8 Lungo la strada provinciale 3 a Montecchio di Vallefoglia Una donna di 71 anni è stata investita da un'auto guidata da un giovane del posto L'urto ha scaraventato la donna sul parabrezza e poi a terra Soccorsa dall'eliambulanza, è portata nell'ospedale di Torrette e è morta poco dopo Dopo la riconferma a presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Fabio Tombari risponde agli attacchi che gli sono arrivati in queste ultime settimane Dal mondo della politica, non porto rancore per nessuno, ha detto il presidente Ma non posso lasciare che si metta in dubbio il mio onore Sulla questione di Banca Marche sono state dette tante inesattezze da politici in cerca di visibilità In vista delle prossime elezioni di maggio Così oggi Fabio Tombari, all'indomani della riconferma della sua figura Presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Dati alla mano e dopo aver consegnato ai giornalisti il bilancio del 2013 Ha spiegato tutto nei minimi dettagli Primo punto, parliamo di una svalutazione, le ha detto assolutamente non di una perdita Certo, è una svalutazione contabile, prudenziale, non è una perdita La perdita si ha solo quando le azioni vengono vendute Tutti sanno queste cose, potevamo fare una svalutazione minore Ma abbiamo ritenuto per motivi di trasparenza e di correttezza contabile Di svalutare quanto hanno svalutato gli altri In questi giorni sono state dette anche altre inesattezze Un'altra di queste è quella dell'utilizzo di questi soldi Lei ha ricordato che ovviamente in quel caso si tratta di patrimonio I soldi che invece vanno utilizzati sono quelli che si riferiscono al rendimento Sì, in questi giorni tante inesattezze Qualcuna voluta, qualcuna non voluta Ma lasciamo perdere Effettivamente è così, il patrimonio non può essere utilizzato per l'erogazione Solo i rendimenti vanno utilizzati per l'erogazione Certo, il fatto che Banca Marche per alcuni anni non darà dividendi Ci costringe a far rendere di più l'altra parte del nostro patrimonio Se, comunque l'ho detto più volte, lo ripeto I settori sociali, sanità, istruzione, aiuto alle famiglie, filantropia e ambiente Non subiranno nessuna diminuzione Eventualmente ridurremo le nostre erogazioni nella cultura Perché nella cultura? Perché negli anni passati la cultura ha avuto sempre una funzione Diciamo, predominante rispetto alle altre erogazioni Noi ci siamo messi nelle mani di uno studio legale molto importante di Milano e di Torino Che ci ha dato una memoria, ci ha dato un parere su come dovremmo comportarci Qualcuno dice, se hai chiesto il ristoro L'ho sentito da radio e da Fano TV Se hai chiesto il ristoro vuol dire che hai avuto il danno No, io temo di avere un danno e pertanto ti chiedo questo ristoro Dopo aver mostrato i dati del bilancio 2013 Commentandoli positivamente anche per l'erogazione pari a quella del 2012 Tombari ha ringraziato i soci che lo hanno riconfermato presidente Qualche cosa l'ha avuta da dire ai politici Io non ho rancori per nessuno, per i politici che in questi giorni mi hanno attaccato Lasciamo perdere tutto La porta della fondazione, assicuro a tutti, è sempre aperta Io sono sempre disponibile a qualsiasi incontro con chiunque Qualunque sia la coalizione che vincerà le elezioni qui a Fano o negli altri comuni Troverà sempre in me la piena disponibilità per risolvere i problemi della città e del nostro territorio Alle dichiarazioni rilasciate da Carlo De Marchi di Bene Comune alla stampa Tombari risponde invece così Chi mi attacca sul piano personale ovviamente mette in dubbio la mia onorabilità Io devo tutelarmi in qualche modo per me, per la mia famiglia, per la mia vita insomma Quindi siccome ho visto accuse pesanti Ho incaricato il mio legale di verificare se ci sono gli estremi per una azione legale Quindi ancora non ho risultato Se mi risponderà che ci sono motivi per poter procedere Io a garanzia del mio onore personale dovrò procedere Associazioni di categoria, comune e provincia insieme per candidare Fano Al luogo in cui far sorgere un polo logistico provinciale Intanto questa mattina è stato firmato il protocollo d'intesa Parte dalla premessa della Regione Marche di riconoscere priorità alle infrastrutture di trasporto Delle merci ed anche alle piattaforme logistiche Il protocollo d'intesa ha siglato questa mattina La firma è quella di provincia, comune ma anche Confindustria, Camera di Commercio, CNA Ed inoltre Confartigianato, Associazione Artigianato Metaorense e Associazione Libere Imprese Tutti aderiscono alla manifestazione di interesse per la realizzazione di un nuovo polo logistico nel comune di Fano che avrà carattere provinciale Un intervento che potrebbe anche essere inserito nel progetto di completamento della E78 Fano Grosseto Oggi con il documento che abbiamo sottoscritto candidiamo Fano a diventare un polo per la logistica per tutto il territorio provinciale E' chiaro che l'organizzazione dei trasporti sta anche in chiave alle infrastrutture esistenti Non va dimenticato come il completamento della Fano Grosseto ovviamente è un elemento importante, chiave anche per la realizzazione di questa infrastruttura Il polo logistico di Fano non sarà in competizione ma sarà complementare con il centro intermodale di Iesi e ovviamente può diventare un'occasione di occupazione per il nostro territorio Bisognerebbe trovare il modo affinché le merci arrivino nel polo logistico e poi direttamente vengano distribuite nei centri storici attraverso mezzi che siano elettrici quindi non inquinanti Ovviamente questo va anche nel rispetto dei temi ambientali Un lavoro che va avanti da due anni e che ha trovato nel comune di Fano è precisamente nell'area della Chiaruccia senza identificare diciamo ancora urbanisticamente quale con esattezza sia l'area privata del Codma o l'area pubblica la possibilità di realizzare un polo logistico al servizio delle imprese Riteniamo questa un'opportunità importante perché è legata al discorso della Fano Grosseto alle opere accessorie della terza corsia il fatto che il comune di Fano è un comune strategico per quanto riguarda sia il porto di Ravenna anche il porto di Ancona così come altre infrastrutture Riteniamo di essere in tempo anche per il discorso 2014-2020 quindi la programmazione che farà la Regione Marche e di fronte a questo non potevamo ovviamente rimanere fermi perché se la crisi ha colpito tutti i territori del nostro paese alla stessa maniera le opportunità di ripresa le coglieranno solo chi sarà in grado di disegnare un futuro alla città ma anche con una certa prospettiva dal punto di vista delle imprese e dell'economia Le amministrative, tre candidati diversi ma un'unica faccia della medaglia Adaro Miccioli candidato sindaco di Fano 5 Stelle attacca Massimo Seri, Mirko Carloni e Davide Del Vecchio sui temi della sanità, su Aset e sul consumo del territorio Siamo qui per dimostrare che i candidati sindaco, Carloni, Seri e Del Vecchio non sono altro che tre facce di una stessa medaglia propongono tante cose durante questa campagna elettorale però bisogna andare a vedere veramente che cosa affermano e qual è la verità delle loro parole e soprattutto la loro coerenza Prendiamo tre aspetti fondamentali Il primo è quello sull'ospedale Tutti e tre si dicono difensori oggi dell'ospedale del Santa Croce quando fino a ieri hanno sempre appoggiato l'idea dell'ospedale unico ma lo stanno facendo anche tutt'oggi perché negli incontri pubblici, dalle loro parole e dal loro programma proprio si evince il fatto che se ci fossero i soldi e le condizioni economiche per creare un ospedale unico loro appoggerebbero appieno questa idea mentre il Movimento 5 Stelle fin da cinque anni a questa parte ha sempre invece sostenuto l'idea della difesa del Santa Croce riorganizzandolo e riqualificando l'esistente Questione Aset ad esempio, anche in questo caso il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e oltretutto in questi ultimi mesi per l'azienda speciale che mette in mano al Comune ancora di più la gestione pubblica dell'azienda mentre Carloni da sempre, chiaramente anche il suo partito spinge per la privatizzazione dei servizi Ricordo solamente che Carloni ha fatto entrare la Duomo GPA nella gestione dei tributi ha voluto creare ad esempio una società di trasformazione urbana per acquistare la ex caserma, fortunatamente non è andata in porto questa operazione Del Vecchio ha dimostrato attraverso Aguzzi chiaramente che alcune occasioni di vendere l'aset ci sono state e ci ha fatto un pensiero abbastanza concreto anche se non si è mai realizzato E infine Seri che ha addirittura appoggiato la nostra mozione di azienda speciale e poi è andato a dire davanti ai giornalisti che comunque sia sarà una mozione da verificare quindi ha fatto votare addirittura una nostra proposta senza poi verificare in realtà di che cosa parlava Ultimo punto fondamentale la cementificazione e lo sviluppo urbanistico della città proprio nell'ultimo consiglio comunale gli uomini, tra virgolette, di Carloni e Del Vecchio hanno adottato ben sei varianti mentre Seri con il PD a suo tempo ha approvato addirittura le varianti per le B5 vale a dire quelle zone ex agricole che potevano già avere oltretutto uno sviluppo urbanistico che invece sono state potenziate da questo punto di vista quindi anche in questo caso tante parole oggi si fanno paladini del recupero edilizio e della riqualificazione mentre fino a pochi giorni fa praticamente erano per la cementificazione della città anche in questo caso il Movimento 5 Stelle è stato sempre coerente parlando di riqualificazione dell'esistente e spingendo l'edilizia su un nuovo fronte che è quello appunto del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonte rinnovabili dopo un lavoro iniziato nell'ottobre scorso gli studenti della Polonia e dell'Olivetti di Fano hanno presentato il risultato di un progetto che si intitola Dorothy hanno seguito e documentato con la realizzazione di foto, video, quaderni e illustrazioni le attività collaterali rivolte al pubblico ma anche le prove e il backstage delle produzioni del Teatro della Fortuna sono i 60 ragazzi del Liceo Artistico a Polloni e dell'Istituto Professionale Olivetti che hanno partecipato alla prima edizione del progetto Dorothy iniziativa della Fondazione Teatro della Fortuna in collaborazione con il Polo Scolastico 3 di Fano il loro impegno che si è tradotto in migliaia di foto ore di girato ma anche pagine e pagine di testi e tante tavole disegnate ma soprattutto in un'esperienza umana culturale e professionale verrà presentato sabato pomeriggio alle 17 a teatro Sabato prossimo nel pomeriggio ci sarà questo avvenimento avremo allistito per quella giornata la mostra fotografica e proietteremo il video che racconterà a chi avrà piacere di venire tutto quello che è accaduto in questi mesi con i 60 ragazzi che hanno seguito il progetto sono tutti ragazzi del Polo Scolastico 3 seguiti dai loro insegnanti che hanno lavorato io preferisco chiamarlo così a tutte le produzioni della scorsa stagione e hanno scoperto il teatro da dietro il palcoscenico hanno potuto conoscere quello che succede alcuni hanno fatto degli stage nelle attività di trucco, di parrucco e di sartoria altri hanno fatto foto intervistato gli artisti seguito la musica, seguito le prove l'entusiasmo col quale hanno realizzato il video, il blog, le fotografie io credo che meriti di essere presentato alla città soprattutto nell'intendimento della fondazione di proseguire con questo progetto che già li dovrebbe vedere coinvolti nella realizzazione di una produzione di un prossimo lavoro teatrale della prossima stagione piccolo ma significativo gesto di solidarietà di Banca Suasa nei confronti degli alluvionati colpiti dal maltempo che si è abbattuto sulle marche da parte dei consiglieri di amministrazione di Banca Suasa appunto l'istituto di credito che opera in prevalenza nel fanese e nel senigalliese proprio a seguito degli eventi che hanno colpito in particolare la città di Senigallia e le frazioni limitrofe il CDA di Banca Suasa all'unanimità ha deliberato di devolvere tutto il corrispettivo dei gettoni di presenza della seduta del 5 maggio alla Caritas di Senigallia nella stessa riunione il Consiglio ha deliberato finanziamenti agevolati a favore della popolazione colpita dall'alluvione di concerto con le altre banche di credito cooperativo operanti sul territorio si chiama Fantasia d'Estate ed è il dolce della stagione che sta per arrivare rappresentato dal pasticcere Stefano Ceresani Una carrozza di cioccolato che porta idealmente l'estate in arrivo è Fantasia d'Estate il dolce del maestro pasticcere Stefano Ceresani presentato in occasione dell'arrivo della bella stagione Abbiamo pensato a questo nome perché per questa splendida estate fanese che sta arrivando che è alle porte abbiamo pensato appunto di fare una carrozza con i cavalli trainata da due cavalli dove dentro idealmente arriva l'estate in un letto di fiori e gli alberi fioriti Per i più attenti alla linea Ceresani rassicura il dolce ha all'interno ingredienti light e dietetici I ingredienti principali sono tutti dietetici quindi c'è il cioccolato allo yogurt c'è un ripieno di yogurt magro e della frutta fresca con l'aggiunta sopra del cioccolato lavorato ovviamente Senza fare due giorni di palestra si mangia una fetta di torta allo yogurt e sono due giorni di palestra veri e propri Allora tra poco due interviste la prima a Davide Rossi e poi subito dopo a Laura Serra il 27 maggio invece tornano i caccianasi per le ultime due puntate della stagione la notizia finisce qui grazie per averci seguito arrivederci a domani grazie per averci seguito